Cari amici, mentre mi preparo a visitare il Myanmar, desidero inviare una parola di saluto e di amicizia a tutto il suo popolo. Non vedo l'ora di potervi incontrare. Vengo a proclamare il Vangelo di Gesù Cristo, un messaggio di riconciliazione, di perdono e di pace. La mia visita vuol confermare la comunità cattolica del Myanmar nella sua fede in Dio e nella sua testimonianza nel Vangelo, che insegna la dignità di ogni uomo e donna e desige di aprire i nostri cuori agli altri, specialmente ai poveri e ai bisognosi. Nel medesimo tempo desidero visitare la Nazione con spirito di rispetto e incoraggiamento per ogni sforzo volto a costruire armonia e cooperazione nel servizio al bene comune. Noi viviamo in un tempo in cui i credenti e gli uomini di buona volontà sentono sempre più la necessità di crescere nella mutua comprensione e nel rispetto e di sostenersi l'uno all'altro come membri dell'unica famiglia umana, perché tutti siamo figli di Dio. So che molti in Myanmar lavorano molto per preparare la mia visita e li ringrazio. Chiedo a ciascuno di pregare affinché i giorni nei quali io sarò con voi possano essere fonte di speranza e di incoraggiamento per tutti. Su di voi e sulle vostre famiglie invoco le divine benedizioni di gioia e di pace. A presto.